Il venerdì senti, io non so, forse c'è l'autista lì, ma che sta facciando queste cose, non lo so. Perché è venuto risciuti, c'è stato un traffico fermo, la gente mi diceva, siccome perde il benzina ho paura di questo scopo. Il venerdì, c'è l'autista, c'è l'autista, c'è l'autista. Guarda c'è il messaggio, ho visto tutto fuori, ma c'è forse un trattore che sta buon usato, mi sa che c'està, è una buona. Grazie a tutti.